La moda è tradizione, innovazione ma anche fusione di culture diverse, è quello che accade a Castelvolturno grazie alle ragazze nigeriane, ci puoi spiegare meglio? Sì, è l'esperienza di ricerca che abbiamo fatto nella sartoria sociale a Castelvolturno nel spiegare appunto come la moda può essere comunque un fattore di integrazione nella misura in cui le ragazze attraverso la produzione artigianale di un prodotto, in questo caso una fattispecie di un abito mettono insieme aspetti sia della cultura del loro paese di origine e reinterpretati attraverso lo stile della cultura del paese di immigrazione per restituire una traccia visibile di una integrazione che si può anche vedere attraverso appunto il prodotto, il prodotto che è quello artigianale non è la produzione industriale, quella linante che in qualche modo non consente di esprimere la propria creatività ma assolutamente attraverso il prodotto artigianale realizzato da queste ragazze c'è la possibilità ecco come dire di esprimere se stessi esprimere quindi in qualche modo una inclusione ecco che parte dal basso, dai processi appunto micro come abbiamo detto durante il convegno La moda è un concetto universale che coinvolge diversi settori, diverse arti, tra queste non poteva mancare il cinema nel suo intervento parlerà e spiegherà anche della visione di Pasolini della moda, ci può dire qualcosa in più? Certo, Pasolini è stato sicuramente uno degli intellettuali più controversi ma anche tra i più significativi, interessanti del Novecento un intellettuale che ha sentito in sé e su di sé il peso di un passaggio, un passaggio di due epoche importanti una civiltà quella precedente a lui e precedente soprattutto ai due eventi bellici del Novecento e poi la società nuova, quella che si costituiva su elementi e su basi che Pasolini non riconosce ma non riconosce perché mancano i segni della civiltà, quello che la semantica dei messaggi, dei contenuti avrebbe dovuto trasferire dalla antica o vecchia epoca alla nuova epoca la nuova generazione, la generazione del boom economico non riconosce più i segni del passato e della civiltà li rifiuta, tende a rappresentarsi in una maniera completamente diversa spesso ostacolando le spire del passato e non reinventando quelli che sono i linguaggi della civiltà Pasolini denuncia in maniera anche molto accanita tutto questo, lo fa in tutte le sue produzioni quelle più propriamente narrative, quelle poetiche e anche quelle cinematografiche e teatrali ne esce un quadro a volte angosciante e inquietante però come tante volte abbiamo potuto definire Pasolini un profeta un profeta che ha saputo guardare ai temi universali dell'umanità e sicuramente in quegli anni ha avuto tanto materiale per riflettere sulla generazione nuova sulla omologazione e quindi sulle forme della moda e del costume della nuova società Moda e mode vuole mettere in relazione diverse entità, diverse realtà una di queste è la Sartoria Bellini oggi è venuta a portare qui la sua testimonianza, cosa si può dirci? è stata per me un'esperienza molto bella avere un'aula così piena di giovani e soprattutto trasferire quello che ho detto un pochino prima in aula cioè l'entità del valore dell'artigianato quindi è una Sartoria, chiaramente l'attività si basa su quello che è il lavoro manuale l'abito fatto a mano su misura e soprattutto raccontare anche a questi ragazzi come sia una storia lunga quella in particolare della Sartoria Bellini ma tutta l'attività artigianale che deve essere fatta di valori, di tradizioni che devono essere trasferite ai più giovani quindi siccome credo molto che nella moda ci sia spazio ancora per gli artigiani il mio invito è quello innanzitutto a capire le differenze fra i prodotti della moda quindi prodotti che sembrano tutti uguali ai nostri occhi hanno invece delle profonde differenze e il lavoro della Sartoria è uno di questi dove c'è tanta qualità, tanta passione tanto saper fare, un sapere che si deve trasferire anche alle future generazioni quindi il messaggio fondamentalmente era questo il racconto di una storia lunga da più di 50 anni che deve continuare anche attraverso i social, attraverso tutti gli strumenti nuovi ma sempre con tanta passione